Bruno Sacchelli, presidente di Confesercenti Piacenza, il Carnevale Piacentino, alla sua seconda edizione, con l'apporto dei commercianti del centro, un modo appunto per rilanciarlo, questo centro storico. Sì, sicuramente, noi siamo ben lieti di rilanciare il centro storico, quindi questa è un'occasione per noi, il tempo ci ha dato una mano, si parte dai bambini per arrivare poi alla gente più anziana, però vogliamo essere presenti nel centro storico sempre di più e dare una mano a questi commercianti che purtroppo il momento non è dei migliori. Il momento non è dei migliori e servono eventi come questo anche per il rilancio del commercio a Piacenza? Sì, assolutamente sì, noi ci crediamo e su questa linea persevereremo perché pochi anni fa un nostro moto diceva che se muore il commercio muore la città, quindi dobbiamo dare forza al commercio per dare vitalità alle città. Purtroppo lo stato di salute al momento non è dei migliori? Non è dei migliori, però bisogna anche cercare di essere positivi e quindi questi momenti di aggregazione, di festa possono aiutare anche sotto questo aspetto.